Un artista capace di rinnovarsi costantemente, un creativo a tutto tondo, Fortunato De Pero, è stato uno dei protagonisti del Novecento, la Valle d'Aosta, all'onore di ospitare fino all'11 maggio 2014 un'esposizione interamente dedicata alla sua figura, curata da Alberto Fitz e Nicoletta Boschiero. L'esposizione realizzata dall'assessorato dell'istruzione e cultura in collaborazione con il MART di Rovereto è stata inaugurata giovedì 12 dicembre al Museo archeologico regionale. Sì, sicuramente un grande artista che abbiamo l'onore oggi qui di presentare alla società valdostana, un ringraziamento ovviamente va al MART di Rovereto che ci ha concesso buona parte di queste opere, ovviamente va nella direzione di proporre sempre più degli artisti internazionali che hanno fatto il loro corso nella storia e buono arriva a dire il fatto che sarà la quarta esposizione a cavallo tra il 2013 e il 2014 per quanto riguarda l'arte in Valle d'Aosta. Credo che stiamo facendo diventare la Valle d'Aosta come Aosta sempre più un pullo culturale d'eccellenza e quindi andare in questa direzione in un momento di così forte crisi credo che dia molto rispetto a quello che è il settore culturale in valle. Le opere sono cento e sono suddivise in sette sezioni che come altrettanti capitoli di un'appassionante biografia approfondiscono ciascuna una diversa fase dell'esperienza artistica dell'artista trentino. Esordi e futurismo, clavella e il teatro, casa del mago, pubblicità, stile d'acciaio, rivisitazioni. De Pero è quello che introduce l'arte nella vita, crea un sistema di creatività totale dove non distingue più tra cultura alta e cultura bassa, tra pubblicità e dipinti, tra opere su commissione e tarsi in stoffa, tra design e grafica. È un artista che sconvolge il sistema. Quindi è un artista che rompe le regole. Questa mostra lo dimostra con chiarezza. È una grande carrellata nell'ambito della creatività, di questo segno nomadico di De Pero che parte dalle esperienze futuriste, anzi addirittura pre-futuriste, ovvero simboliste, per giungere al recupero dell'arte popolare, all'artigianato che sono poi gli anni 40. Il mar di Rovereto ha prestato una serie di opere particolarmente significative, mentre una discreta quantità di creazioni proviene da altre realtà museali, fondazioni, gallerie, musei aziendali, come quello di Campari che con De Pero strinse un sodalizio molto importante. È una figura assolutamente sfaccettata, poliedrica, caleidoscopica, che infatti ha creato una visione complessiva dell'arte e questo rappresenta anche la sua originalità e il fatto che viene molto apprezzato anche adesso. In effetti la mostra ricostruisce attraverso una lettura aggiornata tutti gli aspetti della creatività di De Pero che è stato anche un creativo insensolato in quanto si è occupato di design, di moda ed è stato un grande pubblicitario. infatti una sala, una delle sale principali, è dedicata proprio alla pubblicità.